Un posto al sole, anticipazioni 27-31 maggio, Ida lotta per suo figlio, Ferri crudele. Ida lotterà ancora per suo figlio, facendo i conti anche con un cambio atteggiamento da parte di Diego che finirà per ferirla, sarà questa una delle principali storyline degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda tra il 27 e il 31 maggio. Nel frattempo Roberto Ferri continuerà a mostrare tutta la sua crudeltà, continuando a tenere Diego sotto scacco con i suoi ricatti su Ida? Raffaele, sempre più provato dalla situazione che si è creata con l'imprenditore, che ha minacciato di denunciarlo e ha indetto una riunione di condominio straordinaria dopo il loro litigio, deciderà di rinunciare al suo posto di lavoro pur di non creare problemi a nessuno. Roberto tiene sotto scacco Diego Roberto non avrà alcuna intenzione di arrendersi dopo che i condomini del palazzo si sono schierati contro il licenziamento di Raffaele. Il suo obiettivo continuerà a essere quello di cacciarlo via, per questo motivo proverà a intraprendere un'azione legale nei confronti di tutti gli abitanti del palazzo. Intanto continuerà a mettere sotto pressione Diego, userà la situazione di tensione e la possibile causa contro Raffaele, padre di Diego, come arma di ricatto per manovrarlo come una marionetta. Il suo obiettivo è sempre uno, fare in modo che Diego faccia cambiare idea a Ida, che intende procedere per vie legali pur di avere la custodia del figlio. Diego sarà in difficoltà e non saprà come comportarsi, anche se alla fine prenderà in considerazione l'idea di voltare le spalle alla ragazza. Ida e Raffaele vittime collaterali della crudeltà di Roberto Ida andrà avanti per la sua strada e continuerà a lottare per il figlio, seppur delusa dal cambio di atteggiamento di Diego, che inevitabilmente finirà per ferirla. Anche Raffaele sarà provato dalla situazione che si è venuta a creare con Ferri, al punto da prendere in considerazione l'idea di licenziarsi, dopo tantissimi anni come portiere di Palazzo Paiadini. Raffaele è infatti uno dei personaggi di un posto al sole presenti fin dal 1996, l'anno di inizio della messa in onda della sopopera. Giordano vuole impedire che Roberto possa fare del male anche agli altri inquilini e alle persone a cui vuole bene, e si dirà pronto a fare un passo indietro così da non dover ricorrere alle vie legali. Raffaele aveva aggredito Roberto Ferri nel palazzo negli episodi precedenti della sopopera Raffaele aveva perso il controllo con Ferri, dopo che quest'ultimo lo aveva accusato di non essere stato un bravo nonno. Raffaele si è scagliato contro Roberto dandogli un pugno che lo ha fatto cadere a terra, e dopo gli accertamenti medici è emersa una frattura al polso. Dato che suo nipote si era fatto male all'interno del palazzo mentre lui non era attento. Questo ha scatenato la rabbia e la sete di vendetta di Ferri, che da quel momento ha promesso al portiere che gliela avrebbe fatta pagare Cara per il suo gesto.